Ancona, 21 maggio, manifestazione dei migranti, rifugiati richiedenti asilo. Ci stiamo dirigendo verso la Prefettura, chiedono alla Commissione di non rigettare le loro richieste. La Commissione da Nona denuncia che è una delle commissioni che più rigetta le richieste d'asilo in Italia. I rifugiati chiedono i documenti, chiedono libertà di movimento. Un corteo di centinaia di rifugiati oggi, auto-organizzato, ha percorso le vie della città. E adesso siamo in piazza del Papa, sotto gli uffici della Prefettura. I rifugiati continuano a chiedere il rilascio dei documenti e chiedono che le loro richieste di asilo siano accettate. Noi siamo qui, noi capito che Ancona è solo una città tranquilla. Noi non Batu, veniamo a trovare qua Presidente. Non c'è questa passa. Perderà per scottare il caro. Aennes è trovando. Non passo qua problemi con ci, non cambierà il dito puzzone. Acabelo a theonare ma, a round of souci con la massa. Noi la città di dirt lectura, ha percorso il calle dioof. La Commissione di ditimana con la una uomoia. Au che si, si, alli non c臭ano. Non c'è lo ki, nel com whi, non cambierà il domanda. Quatti commenti che i loro richieste di il coro hiệno percorso di persone. Quatti con città. Id form. Bopè! Dredire PH interpre! Pag. Pag. Pag.